Devo fare il mio lavoro straniero, succeda quel che succede, lo so, duca. Guardate come si carica, lo faccio lentamente per farvi camminare. Guardate come si carica, lo faccio lentamente per farvi camminare. Guardate come si carica, lo faccio lentamente per farvi camminare. Guardate come si carica. Guardate come si carica. Buona t intelligence. Giardina